Un contributo straordinario per spingere l'ex provincia a fare un nuovo passo indietro, a ritirare la richiesta di recesso come socio fondatore del CUPA, ad annunciarlo il vice capogruppo Lars del nuovo centrodestra, Vincenzo Fontana. Un primo risultato ottenuto in commissione bilancio a Lars, lo stanziamento di un fondo destinato al consorzio universitario della provincia di Agrigento che, se supererà lo scoglio dell'aula, giungerà a destinazione attraverso il rientro del libero consorzio fra i comuni nell'assetto associatario. La somma complessiva prevista nel testo della finanziaria licenziata in commissione ammonta quasi 2 milioni e mezzo di euro, sottolinea l'onorevole Fontana, ma va distribuita a quattro realtà universitarie della Sicilia. Tenuto conto di alcuni parametri, nelle casse del CUPA dovrebbe affluire una cifra attorno a 700-800 mila euro. Quindi possiamo dire, osserva il parlamentare del nuovo centrodestra, che la tanta appaventata chiusura a questo punto dovrebbe essere scongiurata. Sarebbe un peccato mortale negare ai nostri giovani la possibilità di frequentare una struttura che si trova nel proprio territorio, senza determinare così un ulteriore aggravio di spese per le famiglie. Ovviamente bisognerà aspettare il voto definitivo dell'Arsi per poter avere il quadro completo della situazione. E un'altra battaglia, destinata a dare i suoi frutti, aggiunge Fontana, riguarda lo stanziamento all'Istituto Toscanini di Ribera, anch'essa in seria difficoltà dal punto di vista economico. Ma nella lunga maratona, che tra sabato e domenica ha portato alla definizione del testo, c'è stato spazio per altri importanti aggiustamenti. Come quello che riguarda i consorsi di bonifica, conclude Vincenzo Fontana, emendamenti che garantiranno gli attuali livelli occupazionali e un migliore sviluppo del settore agricolo in Sicilia. O come quello che assegna fondi per l'inclusione sociale e alle scuole cattoliche. Grazie. Grazie. Grazie.